Il mio stile è semplice, nel senso che a me piace la donna un po' più mascolina. Scelgo sempre il pantalone al vestito, lo smoking allo strascico. Devo dire, ho una bambina meravigliosa che è bravissima, ho un marito che è un papà speciale, quindi ci alterniamo adesso al parco col papà, li raggiungo al parco con c'era così. È facile, nel senso che tutto il tempo che ho lo dedico a lei. Allora, io credo che noi abbiamo il potere di essere veramente capaci di adattarci a quello che ci succede, così come abbiamo superato questo momento storico terribile. Allo stesso tempo, secondo me, siamo bravi a dimenticare le cose molto brutte. Io devo dire la verità, questa normalità mi sembra non essere mai andata via. È un po' come se fosse stata una brutta parentesi che secondo me tutti noi presto ricorderemo, ma visivamente spero un po' meno. Devo dire, ho una bambina meravigliosa che è bravissima, ho un marito che è un papà speciale, quindi ci alterniamo adesso al parco col papà, li raggiungo al parco con c'era così. Però, devo dire, è facile, nel senso che tutto il tempo che ho lo dedico a lei, tranne quando lavoro. È un po' più la parte di Cristina, la mia vita e il tempo che dedico a me che è un po' diminuito. Credo solo che bisogna rispettare un minore in generale, in senso assoluto, è il volere dei genitori. Quindi quando sarà mio interesse, che mia figlia si vede, lo deciderò io e nessun altro. Il mio stile è semplice, nel senso che a me piace la donna un po' più mascolina, non amo le donne. Scelgo sempre il pantalone al vestito, lo smoking allo strascico. Mi piace molto la pelle, mi piacciono gli anfibi. Sono molto pratica e il nero ovviamente è il colore, è proprio dominante, non c'è grande fantasia, come potete vedere. Guarda, è uscita adesso la collaborazione VFansFit per ABDK, giusto ieri, che è una capsula appunto per training, quindi fitness. Sono molto molto contenta. Grazie a tutti.